buongiorno a tutti e bentornati qui sul canale youtube di cultura pop io sono sempre victor laslo 88 con un nuovo appuntamento con pop corner perché è giunto il momento di un nuovo unboxing ma prima come sempre vi invito ad iscrivervi al nostro canale youtube cliccando sul pulsante iscriviti sotto al player e non dimenticatevi se lo fate di cliccare anche sulla campanella per rimanere aggiornati su tutte le uscite del canale così vi arrivano le notifiche perché youtube di rikino altrimenti non vi avvisa oggi si torna a parlare di star wars e ho qui un prodottino della black series di asbro che mi incuriosisce e non poco perché da non molto è finita la serie del personaggio in questione un interessante elmo di boba fett ma è quello della prototype armor quindi è quello bianco che viene apprezzato dai fan perché è un po il paradiso dei self painter cioè di quelli che si customizzano gli oggetti perché essendo bianco può essere ridipinto a piacimento di di chi se lo compra quindi qua è già stato aperto che perché credo che ci abbiano fatto una recensione per il sito debuco boba fett per me è stata una discreta delusione lo sapete però a livello estetico l'armatura di boba fett rimane sempre fantastica quindi vediamo un po e dico che è stata una delusione perché secondo me è una storia che manca di coerenza che a un certo punto si interrompe per ripristinare lo status quo di the mandalorian perché è incredibile che debuco boba fett vada a rendere quasi del tutto inutile la seconda stagione di mandalorian questa cosa mi ha dato molto fastidio soprattutto perché non è che questa questo ripristino dello status quo l'abbiano fatto nella serie delle mandalorie no l'hanno fatto in quello di in quella di boba fett però vabbè allora anzi questo è il visore e dopo lo mettiamo questo elettronico va a batterie tolgo l'elmo prima di mostrarvelo vediamo che cosa c'è qua ci sono le istruzioncine è indossabile a quanto ho capito adesso vedremo abbastanza spartana come confezione nel senso che se vi ricordate anche magari la dark saber quant'altro è tutto un po più sfarzioso qua più spartano devo dire la black series non delude di solito questo è forse un po impolverato allora ecco qua tolgo gli occhiali forse questo incredibile ci sta anche con il mio testone pazzesco sono potentissimo ma che bello allora adesso immaginate che rimango incastrato no scherzi a parte ok questo è perfetto anche per il mio testone esagerato incredibile quindi se siete testoni come me potete indossarlo e se lo customizzate anche carina come cosa allora questo è il visore se guardate bene non so se si vede ha proprio cioè si vede proprio che è fondamentalmente un casco di boba fett che è stato ridipinto perché vedo proprio il come si posso dire le le ammaccature che sono tipiche del casco di boba fett normale è un casco di boba fett regolare che è stato dipinto di bianco vedelo così perché si vedono proprio le le finte rovinature vedete qua si vede incontro luce vedete che sono quelle del casco di boba fett però ci sta perché in questo modo si può evitare di ridipingerlo di piedi cioè se no se voi comprate un casco di boba fett normale dovete dipingere di bianco per customizzarlo questo è già ridipinto però è proprio un prodotto secondo me per chi vuole customizzarlo cioè se uno vuole un casco di boba fett e non la voglia di customizzarlo tanto vale che prenda quello sempre di asbro ufficiale e fai prima allora qui al lato c'è questa copertura con questa vedete questo vano io qui ho il mio fido giovanni l'ho chiamato così il mio cacciavite di fiducia giovanni ha fatto il suo dovere c'è un vano batteria una singola batteria a credo spero più che altro non ho la micro stilo molto bene se i potenti mezzi mi hanno concesso una batteria micro stilo questa la mettiamo qua prendiamo il nostro coperchio lo riponiamo nel vano e con giovanni lo andiamo a sigillare a questo punto rimettiamo la copertura allora qua abbiamo questo attacco ok lo attaccate così se premete questo pulsante ovviamente il visore si sposta ole non si vede una mazza fionda di nulla però comunque fa la sua porca figura ovviamente questo è da esposizione però volendo può essere utilizzato per dei cosplay perché no il visore in teoria dovrebbe emettere dei sounds dei suoni ecco qua vedete sostanzialmente si attivano le luci non so se si vede sostanzialmente si attiva effettivamente il visore vediamo se io effettivamente vedo qui il visore che si illumina e che mi fa una sorta di visione della stanza che in realtà poi non è non è così però è molto carina cioè vedete se riesco a farvelo vedere è difficile qui si vede sostanzialmente c'è uno schermino led che fa da visore e vedete come se ci fosse un mirino all'interno poi qua basta semplicemente tirarlo su e si disattiva se fai così quindi è un casco sicuramente interessante devo dirlo non magari il finest product che trovate della black series di asbro che di solito ci regala delle gioie incredibili questo è più un prodotto che vuole omaggiare boba fett però diciamo che il prodotto di punta su boba fett è il casco quello non bianco non prototype perché questo è proprio pensato per la customizzazione per cui se non siete fissati con le custom non serve secondo me acquistarlo ma serve più che altro acquistare magari il casco di boba fett o il casco del mandaloriano però è un prodotto comunque interessante trovate in descrizione qui sotto il link per acquistarlo da amazon quindi vi posso dire che a mio modesto parere a me piacciono i caschi boba fett in generale perché questo comunque una volta customizzato fa anche la sua bella figura sulla mensola o comunque in salotto magari in camera però preferisco quello diciamo è più classico perché questo è quello ridipinto per poter permettere a chi lo compra poi di farsi le customizzazioni vedere questo casco mi ricorda quanto la serie su boba fett non mi sia piaciuta anche perché hai un boba fett incredibilmente depotenziato ma non tanto rispetto ai film ai primi film della saga in cui compariva rispetto alle puntate in cui compariva nella serie su the mandalorian in the mandalorian compariva super figo fortissimo nella sua serie è una pippa che le prende di continuo e ha bisogno degli scagnozzi peraltro vuole creare un impero e sono letteralmente in cinque stronzi che cercano a fare i gangster poi questa cosa con il mandaloriano che prende il controllo della situazione e fa diventare le ultime puntate di the book of boba fett la sua serie a me ha dato fastidio tanto più che poi la terza di the mandalorian per me non ha alcun appeal perché vanno a arare completamente quanto è stato fatto in nella seconda stagione di mandalorian e allora a questo punto mi chiedo perché ho perso tempo a guardare quella seconda stagione se poi la terza mi comincia che c'è un ripristino dello status quo sì c'è una missione che lui deve compiere per l'amor del cielo però francamente non abbastanza per farmi interessare alla serie la guarderò ovviamente ma non sono la terza stagione non mi interessa particolarmente con questi presupposti comunque sia il casco è questo valutate se acquistarlo o no secondo me ci sono prodotti da black series sicuramente più validi questo è più una sorta di regalo a chi non ha voglia di mettere troppi strati di vernice su un casco per customizzarlo per cui fateci sapere un commento qui sotto cosa ne pensate di questo casco prototype di boba fett vi invito come ho fatto anche all'inizio a iscrivervi se volete cliccate sul pulsante iscriviti sotto al player cliccate anche sulla campanella per rimanere aggiornati su tutte le notifiche io vi ringrazio per avermi seguito fin qui ringrazio tutti anche a nome di cultura pop grazie per il supporto che state dando al canale abbiamo superato abbondantemente i 3000 iscritti quindi veramente grazie e noi ci vediamo alla prossima puntata di pop corner ciao a tutti